con la mia compagna e la mia figlia siamo una famiglia argentino-spagnola che abitiamo in Sicilia, il mio fratello e la sua compagna hanno arrivato alla mia casa per stare con noi tre mesi fa, il nostro amico francese sono viaggiatori e stanno quattro mesi per l'Italia, già c'è quattro mesi per l'Italia, quando questa situazione brutta del coronavirus ha iniziato loro stavano in Napoli, noi abbiamo detto a loro di arrivare qua perché loro non c'è un'altra opzione, loro abitano nella sua macchina e non c'è un indirizzo fisso né qua né nella Francia. Per arrivare da Napoli qua hanno fatto la prova del coronavirus e hanno fatto anche controlli di polizia e la prova del coronavirus ha sido nulla, zero, non c'è, loro non tenevano altra opzione e anche la polizia vedendo questa situazione l'hanno lasciato, l'hanno lasciato entrare qua per per essere la unica soluzione umanitaria.